Adesso, prima di cantare la prossima canzone, volevo un grandissimo applauso per un Papa che in pochissimo tempo lo vogliamo bere tutti quanti. Facciamo un grande applauso per Papa Francesco, tutti insieme! Applausi 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 Ho detto, questo è un Papa che mi piace. E ho già doveva fare che ero buono. Gli ho scritto subito questa canzone che sta diventando un buon successo mondiale, l'hanno anche suonata quando è andato in Corriere del Sud, io adesso me la canto. l'applauso lo voglio sentire quando finisce la canzone perché dovete capire anche il testo le parole, la musica ovviamente regaliamo alla grande questa sera con tutti i nostri fan la canzone Papa Francesco vai ragazzi